Lucca Biennale Cartasia è composta da varie sezioni, una di queste è la sezione architettura di cui sono la curatrice. Mi presento, sono Giulia Bertolucci. Quando si parla di carta in architettura si pensa sempre a qualcosa di temporaneo o di provvisorio. In realtà la carta e il cartone ha dato prova di buonissime caratteristiche proprio per essere utilizzata nel settore dell'architettura e durante la giornata del 9 settembre l'architettura e le innovazioni della carta parleremo proprio di due soluzioni interessanti e di due studi che approfondiscono le caratteristiche strutturali termo-igrometriche, le caratteristiche quindi che risultano interessanti dal punto di vista delle costruzioni in carta e cartone. Invito tutti allora a partecipare a questo incontro dell'architettura e delle innovazioni della carta che si terrà il venerdì 9 settembre alle 16.30 presso il Museo della Via Francigena a Lucca, alla Casermetta sulle Mura Urbane.